Dobbiamo dare prima di tutto una definizione sommaria della nozione di legittimità che non riprenderò da Weber e dalle sue distinzioni tra legittimità tradizionale, legale, razionale e carismatica, ma che definirò più semplicemente come il motivo per il quale si costituisce una sintesi politica e il motivo per il quale si è leali verso questa sintesi politica e si presta obbedienza alle leggi che in essa sono vigenti. Dunque il motivo per cui una legalità è efficace. Legittimità quindi diversa da legalità. Se noi pensiamo alla legittimità in termini di motivazione profonda per l'adesione a un ordinamento, possiamo allora distinguere nella storia d'Italia, mi pare, quattro grandi famiglie successione di legittimità. Ciascuna di esse, ciascuna di queste quattro grandi famiglie, è generata da un conflitto, ciascuna di esse è portatrice di conflitti, il proprio interno. Non esistono legittimità che non abbiano una dimensione conflittuale. Non esistono legittimità che non abbiano una dimensione conflittuale nella doppia accezione di conflitto come energia politica e conflitto come dispersione di energia politica. Quando vedremo, quando arriveremo a noi, alla legittimità nella quale ci troviamo a vivere oggi, vedremo che cosa significano queste parole. Dicevamo, legittimità così definita, cioè energia politica attiva ed energia politica anche dissipativa, ovvero sia legittimità che nasce da un conflitto costituente, legittimità che contiene dentro di sé dei conflitti che sono tanto ordinativi, quanto invece portatori di disordine. Queste quattro grandi famiglie mi paiono essere le seguenti. La prima, storicamente e logicamente, la legittimità unitaria. Naturalmente vedremo che cosa significa tutto ciò. La seconda, la legittimità imperiale, ovvero sia tanto nazionale quanto sociale. La terza, la legittimità democratica. E la quarta, una legittimità per la quale al momento non avrei un nome, che possiamo chiamare, e forse è già fin troppo, post-democratica. La prima, quella unitaria, copre l'esistenza politica del nostro paese a partire dalla sua unità fino alla Prima Guerra Mondiale. La seconda copre dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale. la terza, la terza, dal 1945 al 1990 circa, e la quarta è quella ventennale dentro la quale ci troviamo. La prima legittimità, quella unitaria, ha questo significato di fondo. L'unità d'Italia non è una mera somma di stati preunitari. L'Italia unita è un salto qualitativo rispetto alla situazione preunitaria. Non è più grande, è superiore. Perché? Ma perché nella, soltanto nell'Italia unita sono state possibili, soltanto nella scala, nel senso geografico, soltanto nella scala dell'Italia unita è stato possibile che si innescassero i processi di modernizzazione per rispondere, che erano le sfide per rispondere alle quali è stata formata l'Italia. Cioè sono stati formati in generale gli stati nazionali moderni. Non sarebbe stata possibile una modernizzazione soltanto Sabaud e sto parlando dello stato più moderno fra quelli preunitari. Non sarebbe stata possibile una modernizzazione soltanto parmense o soltanto modenese o soltanto toscana. Ne sarebbe stata possibile una modernizzazione nel Regno del Sud. L'assemblaggio ha prodotto quella che potremmo definire una massa critica, ma preferisco ad operare la metafora della scala. E così dentro questa nuova entità politica si sono potuti generare dei processi che sono i processi di modernizzazione dell'Italia. Primo dei quali era il processo evidentemente di costituzionalizzazione. Tutti gli stati preunitari a ricezione del Piemonte che non a caso è stato quello propulsivo, tutti gli stati preunitari non avevano alcuna legittimità costituzionale. Si fondavano su legittimità dinastica, tradizionale. La legittimità unitaria contiene la legittimità costituzionale così come contiene la legittimità diciamo così economica che è un'altra forma di legittimità che non sarebbe nata all'infuori della legittimità unitaria. Legittimità economica vuol dire è legittimo ottiene obbedienza a quell'ordinamento che riesce a garantire una produzione economica in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Questo, questa capacità di garantire queste esigenze economiche non si sarebbe sviluppata in contesti preunitari. naturalmente a questo punto bisogna che io mi spieghi perché sembra che stia dicendo qualche cosa di controfattuale. In realtà in Italia si è sviluppato tardi male e soprattutto a macchia di leopardo quello che noi chiamiamo il capitalismo industriale e tuttavia questo è avvenuto all'interno della scala unitaria nazionale mentre all'interno di scale inferiori di scale minori questo semplicemente non sarebbe avvenuto e di fatto non era avvenuto per cui è avvenuto tardi e male il che ha prodotto i ben noti fenomeni di squilibrio fra nord e sud ha prodotto i ben noti fenomeni della emigrazione forzata per mancanza di capacità soprattutto in Italia meridionale ma non solo di sostenere la popolazione e tuttavia ha prodotto anche appunto quella quell'ingresso del paese nel novero delle civiltà industriali che era poi la posta la posta in palio della vicenda nazionale dunque una legittimità economica interna alla legittimità unitaria legittimità economica come abbiamo appena visto non è priva di contraddizioni né priva di conflitti anzi ricchissima di contraddizioni una delle quali quella fra nord e sud è ancora attiva presente viva e bruciante nella nostra realtà non solo ma anche la stessa legittimità costituzionale che all'interno della legittimità unitaria era una legittimità con contraddizioni lo statuto lo statuto albertino era veramente il livello minimo delle costituzioni di carattere moderno era ricalcato sostanzialmente sulla chartreau troie di luigi diciottesimo e prevedeva una organizzazione della politica veramente soltanto in grado minimo liberale non aveva in ogni caso nulla di parlamentare né nulla di democratico non di meno nonostante questi suoi pesantissimi limiti era in ogni caso almeno l'indicazione della consapevolezza che non si può stare nel mondo moderno senza una costituzione non solo ma essendo una costituzione non rigida era fu lo statuto albertino in grado di supportare processi di trasformazione costituzionale di fatto senza venirne travolte il primo dei quali fu il fatto che i governi tutti i governi ebbero bisogno della volero la legittimazione parlamentare che non era per nulla prevista dallo statuto la fiducia parlamentare non era per un governo non era prevista dallo statuto a rigore non era nemmeno previsto il governo nella nello statuto albertino perché si parlava soltanto del fatto che il monarca nomina i suoi ministri non c'era nemmeno la figura del presidente del consiglio dei ministri né del gabinetto era il fatto che il monarca nominava i ministri e la camera serviva soltanto per approvare alcune leggi fra cui fondamentale la legge di bilancio e tuttavia ripeto essendo uno statuto elastico è stato adattato alle esigenze di una società che lentamente diventava un po' meno chiusa un po' meno castale e un pochino più democratica e sicuramente più parlamentare è un sistema politico che diventò da subito parlamentare anche se ripeto non lo era nella carta non parliamo della legge elettorale con la quale la legge elettorale piemontese del 1848 che poi fu la legge elettorale con la quale vennero eletti i primi parlamenti unitari che dava il diritto di voto su base censitaria circa a un po' meno del 2% della popolazione metà dei 20 diritti del voto poi essendo cattolici si astenevano dal votare di conseguenza voi capite quanto fosse ricca di contraddizioni anche la legittimità costituzionale non solo ma la legittimità costituzionale era a sua volta scarsamente affiancata da una legittimità democratica nonostante si fossero svolti effettivamente i plebisciti d'annessione nel 1860 ed erano plebisciti come tali registranti la partecipazione dell'elettorato maschile adulto il momento democratico del nostro risorgimento che pure ci fu non trovò nell'architettura della costituzione in senso materiale dell'Italia unitaria non trovò una collocazione i grandi i padri democratici del risorgimento non avevano posto letteralmente non avevano posto nel neonato regno d'Italia e il neonato regno d'Italia nasce per l'appunto soltanto come attribuzione la data del 17 marzo 1861 è la data in cui viene promulgata una legge di un solo articolo che dice Vittorio Emanuele II assume per sé per i propri successori il titolo di re d'Italia senza nessuna motivazione o specificazione e senza alcuna indicazione del fatto che ciò era stato possibile grazie ad un fenomeno complesso chiamato risorgimento fenomeno che aveva anche certamente una componente sabauda sicuramente una componente dinastica tutto quello che vogliamo ma aveva anche una componente popolare l'unità d'Italia nasce formalmente nel nome del re d'Italia le contraddizioni sono presenti nelle varie legittimità che fanno parte di questa prima grande famiglia di legittimità cioè la legittimità unitaria e le sue interne articolazioni sono piene di contraddizioni l'unica che manca l'unica che manca praticamente del tutto è la contraddizione fra la nuova legittimità unitaria e le vecchie legittimità preunitarie di fatto in Italia non ci sono state guerre civili fra i sostenitori che so io della legittimità del gran duca di Toscana contro i sostenitori della legittimità del nuovo re d'Italia né guerre civili fra i sostenitori della legittimità del duca di Modena contro i filo unitari l'unica eccezione parzialissima alla quale io credo relativamente è tuttavia imponente in sé solo che non si spiega completamente e neppure maggioritariamente con una questione di fedeltà ai legittimi reali preunitari ed è la questione del brigantaggio la questione del brigantaggio è una pesante storia che ci portiamo appresso il brigantaggio è stato represso attraverso la la formalizzazione dello stato d'assedio come si chiamava nella in una grande quantità di province del regno dell'ex regno del sud questa formalizzazione è la legge pica dell'agosto del 1863 che consisteva nella nel passaggio della legittimità formale civile nei territori alla legittimità militare e dunque nella militarizzazione della vita quotidiana nel fatto che le autorità militari escludevano completamente le autorità civili dal governo e dal fatto che la funzione giurisdizionale era affidata completamente soltanto all'esercito cioè ai tribunali speciali di guerra con questo sistema il brigantaggio è stato annientato nel giro di sette anni dal 1863 al 1870 quel brigantaggio aveva anche una venatura filoborbonica ma era soprattutto una una manifestazione di di disperata miseria che non trovava soluzione non trovò soluzione se non nelle migrazioni anche la legittimità unitaria ebbe al proprio interno fratture non fratture classiche come quelle che si installano durante le grandi guerre civili ma una frattura dolorosa e sostanzialmente silenziosa perché i briganti non avevano voce e la repressione del brigantaggio non ha dato origine a nessuna giustificazione e nessuna epopea da parte di nessuno ci fu questa frattura feroce ma silenziosa che che fu una esclusione tacita una esclusione tacita da parte dell'Italia neonata di una buona fetta dei suoi figli ancora dentro la prima legittimità unitaria non possiamo tacere della fondamentale legittimazione giuridico legale un paese non può vivere senza un ordinamento dentro la legittimità unitaria si formò relativamente presto un ordinamento unitario col 1865 viene formalizzato quello che si definì il centralismo amministrativo del paese un durissimo centralismo amministrativo che fu contestato fin da subito da parte di una parte del ceto politico liberale e che tuttavia fu l'ossatura del regno l'ossatura formale legale del regno il sistema dei prefetti e in parallelo le pratiche di secolarizzazione dei beni ecclesiastici un sistema che ebbe come proprio contraltare certamente non l'autonomia locale non forme di autonomia locale nessuna forma di autonomia locale evidentemente ma quella forma di autonomia locale che era il notabilato ovvero la voce dei territori passava esclusivamente attraverso le figure locali dei notabili che costituivano il tessuto connettivo debolissimo nazionale che si rappresentava poi nella camera quella camera fatta di avvocati quella camera fatta di faccendieri quella camera fatta di borghesi occupati ad arricchirsi e a distribuire prebende che fu il Parlamento italiano era l'unica forma di sintesi unitaria di un paese centralizzato dal punto di vista amministrativo e frantumato nelle tantissime legittimità locali che prendevano voce e figura nei notabili quella camera così mal congegnata che suscitò immediatamente praticamente immediatamente le critiche ferocissime di un Gaetano Mosca nel libro sulla teorica dei governi e del governo parlamentare del 1883 quella camera contro la quale tuonarono più o meno tutti i padri democratici del risorgimento pensiamo Carducci benissimo quella camera era l'unica forma di autorappresentazione del paese